Associazione a delinquere, truffa aggravata, falsificazione di referti medici, corruzione e questi reati contestati a vario titolo alle 17 persone arrestate all'alba di oggi dai militari della Guardia di Finanza di Brindisi su disposizione del PM della Procura della Repubblica di Brindisi, Nicolangelo Ghizzardi. Sette le misure di custodia cautelare in carcere messe oggi, dieci soggetti sottoposti invece ai domiciliari, fra cui quattro professionisti, un medico ed un praticante avvocato fasanese, due avvocati brindisini, Silvia Bellino di 38 anni e Gianluca Scuteri 42. Le indagini avrebbero appurato l'esistenza di quattro gruppi organizzati che operavano uno all'insaputa dell'altra e che organizzavano a fini di lucro incidenti falsi o che ingigantivano sinistri realmente accaduti. Tutto questo ai danni delle compagnie assicurative con la compiacenza di medici e avvocati. Negli ultimi cinque anni più di 80 gli incidenti stradali fasulli e 293 mila euro di introito individuati nell'ambito delle indagini iniziate nel gennaio del 2010 nel corso delle quali le fiamme gialle sarebbero ricorse ad intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e appostamenti. Tutto sarebbe partito dalla denuncia di una compagnia assicurativa. Altre 16 poi sollecitate avrebbero fornito documentazione di sinistri sospetti. Fra i casi accertati quello di un'autovettura risultata già rottamata ma protagonista in pochi mesi di 13 incidenti. 224 gli indagati a piede libero dunque secondo le accuse gli arrestati si servivano di un certo numero di persone anche minorenni che dietro un piccolo compenso si prestavano a figurare come passeggiari coinvolti nei falsi incidenti per incrementare il risarcimento illecito. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi in procura è stato spiegato come il medico coinvolto Franco Zizi, medico ortopedico, produceva certificati al costo di 150 euro senza visitare i presunti pazienti prescrivendo anche diagnosi e giorni di malattia. Le compagnie spesso non hanno una visione di insieme degli infortuni non hanno una banca dati o comunque se hanno la banca dati non sono in grado di esaminarla in maniera globale per cui loro come si è stato già detto nel corso la conferenza stampa dinnanzi a una richiesta minimale di indennizzo invece di affrontare una controversia civile dall'esito incerto e che comporterebbe anche un aggravio delle spese legali preferiscono pagare e definire subito la questione. Nel momento in cui però noi le abbiamo messe dinnanzi al fatto compiuto di aver accertato l'esistenza di un fenomeno veramente dalle dimensioni veramente estese, le abbiamo sollecitate a presentare le querele e devo dire che sono state prontamente presentate senza nessuna ritrosia proprio perché si sono rese conto della gravità del fenomeno e tutto sommato della importanza di contrastare questo fenomeno per poter svolgere meglio la loro attività e rimanere in maniera più competitiva sul mercato. Vittime delle truffe erano soprattutto gli automobilisti onesti, quelli poi costretti a pagare premi assicurativi molto alti. Sì, la diffusione del fenomeno è tale per cui le compagnie di assicurazione in genere lo considerano un costo aggiuntivo e per rientrare dai costi sostenuti sono costrette ad aumentare i premi di assicurazione che pagano gli automobilisti onesti.